Taglio del nastro del parco Lungomare San Vito. Il parco inaugurato. Oggi l'inaugurazione di un terzo parco urbano qui presso Lungomare San Vito. Quest'area che era stata già inaugurata da uno skate park, oggi si arricchisce ancora di più. Lei ha parlato di una città come casa nostra, moderna e funzionale. Sì, immaginiamo aree, intanto nel verde e poi qui in Rivalmare è fantastico. Questo parco urbano è unico, ce lo invidiano e ce lo invidieranno tante città, tanti piccoli paesi della nostra regione. Perché non è da tutti avere un'area verde attrezzata per gli animali, per i ragazzi, per le famiglie, per chi vuole semplicemente prendere del sole, per chi vuole fare attività ginnica. Ci sono gli attrezzi di cardio fitness, ci sono i giochi per adolescenti. Insomma, poi 2000 metri quadri quasi di verde proprio in Riva al mare. Mazzara si candida a diventare una città green, verde, la più verde, la più green, la più bella della Sicilia. Capisco che è un progetto ambizioso, ma noi abbiamo appena cominciato. Qui siamo al secondo stralcio, perché nei nostri progetti c'è ancora un terzo, un quarto e un quinto stralcio. Il lungomare San Vito sarà davvero bellissimo. E a tutti i miei che mi dicono, Sindaco, ma come facciamo con i soldi? Non ce ne sono mai. Io dico, non vi preoccupate, noi progettiamo, andiamo avanti. Sono i progetti che valgono, le risorse si troveranno sempre. Parliamo un po', lei ha fatto un discorso, nel suo discorso iniziale ha parlato dei giovani che possono soffrire di quest'area, magari in alternativa, anzi, insomma, un'area che possa escludere altri tipi di fruizione. Poi ha parlato ovviamente del fatto che oggi molti giovani frequentano magari i giochi, le scommesse, i bet e quant'altro. Noi aggiungiamo anche che c'è un problema, anche droga in città, che purtroppo bisogna affrontare. Questa è la via, la soluzione per poter arrivare anche a contribuire a creare una nuova generazione? Sarebbe troppo semplice se fosse la soluzione. Certamente i ragazzi hanno bisogno di spazi sani. Qui è tutto illuminato, è tutto video sorvegliato. Si può venire qui in sicurezza, così come al Villa Yolanda, così come al Parco Urbano di Emanuela Setti Carraro. Ogni area che noi costruiamo, generiamo, è illuminata e video sorvegliata. I ragazzi hanno bisogno di spazi sicuri, hanno bisogno di spazi sani dove incontrarsi e praticare buone abitudini, che sono quelle di stare insieme, di muoversi, di prendere aria pulita, di fare sport, di giocare insieme. Di questo hanno bisogno i nostri adolescenti. I temi che tu hai posto sono temi importanti e seri. Oggi la nostra società ha davvero bisogno di ripensare i giovani, concedere loro degli spazi pubblici all'aperto, ma anche al chiuso, che sono i progetti sui quali stiamo lavorando e che sono già stati finanziati, come il Corridoni e Sant'Agostino, che diventeranno aree di accoglienza per le associazioni, soprattutto quelle giovanile, cominciare a immaginare spazi per i giovani è il primo passo per cominciare per pensare una mazzara che rimanga giovane, cioè che i nostri ragazzi possano pensare di rimanere qui, perché qui c'è ancora un futuro da pensare. Un altro palco dedicato ai nostri amici animali, ma soprattutto dedicato alle persone che amano gli animali. Assolutamente sì. Oggi inauguriamo la terza area di sgambamento per gli animali. È un momento importante, soprattutto perché manifesta ancora da una volta l'attenzione che ha questa amministrazione per tutti i proprietari di animali. È un segnale importante, anche perché un rapporto sereno tra l'uomo e l'animale ci aiuta ad avere anche un'attenzione particolare per quelli che sono gli animali di strada, che noi stiamo cercando in tutti i modi di attenzionare anche con le politiche per il contrasto al fenomeno degli abbandoni e di conseguenza del randaggismo. Quindi venite con i vostri animali a fare le passeggiate qui a lungomare e soprattutto fate divertire i vostri animali.